Siamo quattro fratelli con competenze diverse. Io sono un agronomo e mi occupo di sviluppo territoriale e di cooperazione. Poi ho un fratello architetto Marco, poi abbiamo Nino che è un geologo ma che si occupa di web e poi abbiamo Matteo. L'azienda è un'azienda di famiglia da sempre, noi veniamo qui da quando eravamo bambini e arrivato a un certo punto quando è diventata di proprietà della mamma abbiamo pensato di utilizzarla. Abbiamo immaginato di creare un'oasi al centro della Sicilia, un posto facilmente raggiungibile da varie parti della Sicilia dove passare delle ore con serenità, con tranquillità e dove provare a riapprezzare quello che abbiamo perso probabilmente stando nelle città. Un aspetto importante che come potete benissimo immaginare ci interessa molto è quello dell'agricoltura sociale che la 311 ci sta aiutando a portare avanti. Noi apriamo l'azienda a tutti coloro che hanno il gusto di voler stare in campagna ma cercando di vivere quella giornata con serenità. Grazie al finanziamento del PSR noi siamo riusciti a realizzare il nostro progetto che fondamentalmente ha riguardato la ristrutturazione dei vecchi locali adibiti prima a magazzini, stalle, granai. La vecchia stalle adesso è una sala conferenze, dei magazzini anticamente adibiti allo stoccaggio del legname adesso sono diventati servizi igienici. Il vecchio granaio è diventato in parte la sala degustazione e in parte la sala catering. Poi abbiamo trasformato un altro magazzino in museo delle attività contadine. Lavoriamo moltissimo con internet e puntiamo moltissimo sulla presenza online, innanzitutto con un'attività costante che viene fatta sui motori di ricerca. Puntiamo molto su questo per riuscire a pubblicizzarci il più possibile contenendo al massimo i costi. Anche io che aiuto qua perché è una cosa meravigliosa. Mi piace stare qua perché io sono nato qua. Grazie a tutti.